Sono io o non sono io, Nadizza di Marefuori? Mi arrivano ogni giorno centinaia di messaggi, sia su TikTok che sul mio IG, con queste domande, ma ne solo sono alcune, eh! Ragazzi miei, spero che non me ne vogliate, ma io non ne sapevo nemmeno l'esistenza di Marefuori! E ad oggi, se non sbaglio, sta facendo la quarta serie, e io non ho visto nemmeno una puntata! Però, per curiosità, sono andata a vedere chi era questa Nadizza! Ma lo sto pronunciando bene? Ma è stupenda! Però, io, tutta questa somiglianza, non la vedo! Forse gli occhi? Forse il naso? Ma no, il mio è più grosso! I capelli? Nemmeno! Comunque, scherzi a parte, è una bellissima ragazza! E magari, forse lei, essere una delle protagoniste della serie TV più amata dagli italiani in questo momento! Invece, sono una semplice ed umile TikToker! E dopo avervi dato questa breve delucidazione, secondo voi... Giu-Giu-Giu-Giu-Giu-Giu-Giu-Pic